Ciao a tutti, sono Sara e oggi sono qui per parlarvi della sessione Soul Body. Soul Body Consciousness Allignment è un'arte di allineamento spirituale tra corpo e anima e durante la sessione si lavorerà su diversi livelli dell'aura appunto per sopportare il cliente nel proprio processo di crescita interiore. Allineamento significa accettare il proprio disegno e durante la sessione grazie ai 5 pilastri dell'aura Soma questo processo può essere maggiormente facilitato. Durante la sessione i prodotti utilizzati di Aura Soma saranno le bottiglie Rescue, le pomander, le quintessenze, l'essenza del colore e gli arcangeloi. Questi prodotti creano proprio un collante tra corpo e anima e si può lavorare con tutti i nostri livelli dell'aura, allineare quindi in questo caso corpo e anima e aiutare il processo di crescita interiore. Durante la sessione lavoreremo sui piedi, sulle mani e sul viso e su tutti i livelli della nostra aura. È un trattamento molto piacevole, molto rilassante e porta una grande gioia nel nostro cuore. Prima della sessione il cliente in base a quello che in quel momento sta vivendo e su quali colori necessita lavorare, sceglierà una Rescue, una Commander, una quintessenza, un'essenza del colore e un arcangeloi. Saranno i prodotti che si utilizzeranno durante il massaggio. Potete richiedere una sessione individuale energetica di Soul Body Consciousness Alignment presso IES chiamando la segreteria tramite telefono o indirizzo e-mail. Con immensa gratitudine, buona giornata a tutti! Grazie a tutti!